Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi per la vostra gioia voglio parlarvi di un caso italiano, ma non ci perdiamo in chiacchiere e cominciamo subito. Siamo a Milano ed è il 1992, la protagonista del nostro caso si chiama Ivana Siviero e da 30 anni la sua vita non è affatto semplice e per la sua età ha già diverse responsabilità sulle spalle. Ogni giorno per lei è una sfida, deve curare casa, è sposata ma suo marito non può più camminare a causa di un grave incidente. E infine c'è anche il lavoro, la giornata di Ivana inizia sempre la mattina presto, praticamente si alza all'alba, ama vestirsi e truccarsi con cura per andare a lavoro, prima però deve occuparsi di suo marito disabile. Infatti quando è a casa la sua preoccupazione principale è questa, prendersi cura di suo marito, ma c'è anche il lavoro in un'azienda grafica ad Assago, alle porte di Milano. È in quell'ufficio che Ivana passa le sue giornate. Il lavoro è l'unica valvola di sfogo che ha tra la casa e il marito. Il proprietario dell'azienda, titolare di Ivana, è un giovane imprenditore milanese di nome Stefano Savasta. Stefano Savasta un pomeriggio invita Ivana ad andare con lui perché deve comprare dei mobili per l'ufficio. Ivana accetta, i due stanno insieme tutto il giorno ed è così che scatta la scintilla. Stefano non è un uomo che passa inosservato, è un uomo galante, un uomo d'altri tempi, quindi non è affatto precipitoso con Ivana. Infatti la porta spesso a pranzo fuori, i due di solito parlano di lavoro, però col tempo e tra un pranzo e l'altro Ivana si sente corteggiata. E questa sensazione Ivana non la prova più da tanto tempo. Stefano è generoso, gentile, la tratta bene. Infatti un giorno a pranzo Ivana si lascia un po' andare e racconta a Stefano un sogno che fa di frequente. È un sogno un po' intimo, quindi si vergogna di essersi aperta così. Davvero, non è mai stata trattata così da un uomo prima. È così che la donna inizia ad essere confusa, fatica ad addormentarsi la notte, si gira e rigira nel letto. Le sue attenzioni hanno risvegliato in lei la voglia di gioire, di ridere, di vivere. Ivana si sente bella, è corteggiata, ha bisogno di concedersi un po' di leggerezza in una vita stravolta dal destino. Ed ora dire no a queste emozioni non è affatto facile. Ad assago in ufficio, Ivana e il suo datore di lavoro iniziano ad avere i primi approcci fisici. Si trattengono sempre in ufficio un po' di più del previsto. E una serie in particolare, oltre ai baci e alle carezze, i due hanno anche un rapporto intimo. Ivana ora è combattuta. Da un lato c'è l'affetto e la dedizione del marito. Dall'altro uno spiraglio aperto su quella felicità e serenità che non vive da troppo tempo. Ivana è lusingata dalle attenzioni del suo capo ed è così che si butta capofitto in questo nuovo amore clandestino. La loro storia d'amore è ricca, è passionale. Stefano è un uomo che ha l'amore ed ha un significato profondo. La sua partner la fa sentire unica e speciale. Ed è esattamente così che si sente Ivana con Stefano, unica e speciale. Poco tempo dopo l'inizio della loro frequentazione, Stefano fa un regalo molto, molto importante a Ivana. Ossia, un'automobile. Insomma, vuole farle capire che non è una semplice avventura. Passa ancora qualche tempo e Ivana e Stefano passano sempre gli ultimi attimi della giornata insieme in ufficio. Ma arriva una serie in particolare in cui l'uomo la venda e la porta in un'alcova all'interno dell'ufficio che ha sistemato lui stesso per loro due. C'è un letto matrimoniale, un divanetto, dei mobiletti, un quadro. Insomma, Stefano crea un posto solo per loro perché, come dice lui stesso, non possiamo continuare a nasconderci negli sgabuzzini. Quello quindi è il loro angolo di paradiso, un posto segreto che conoscono solo loro due. Stefano e Ivana, che si innamorano sempre di più ogni giorno che passa. Stefano sa stupire Ivana praticamente quotidianamente. È vero, la loro relazione è clandestina, ma è vissuta con molta intensità. Con una felicità che oramai sembrava dimenticata per entrambi. È così che Ivana passa sempre più tempo con Stefano nel loro angolo di paradiso. E lì dentro non ci fanno solo le cose intime, ma parlano, si confidano. Ad esempio, in un'occasione, Ivana dice a Stefano che sua madre e sua sorella non se la stanno passando bene a livello economico. Senza un lavoro stabile per loro è davvero difficile rimettersi in sesto. È così che Stefano prende il telefono, fa una telefonata e fa assumere la madre e la sorella di Ivana nell'azienda. Per Ivana ovviamente quell'uomo è un angelo pievuto dal cielo. L'aiuta, la supporta ogni giorno. Però arriva un momento in cui tutto inizia a mutare. Molto, molto lentamente. Ivana, c'è da dirlo, è una donna socievole, è allegra. Stefano Cherry è uno dei fornitori dell'azienda di Stefano Savasta. Quindi conosce Ivana di vista da anni. Quale si è sempre dimostrato gentile, hanno sempre scambiato quattro chiacchiere, ma nulla di più. E questo basta e avanza per suscitare gelosia in Stefano Savasta. L'uomo quindi instala nell'ufficio delle videocamere delle micro spie per tenere d'occhio Ivana. Stefano inizia a passare ore e ore davanti al computer per vedere cosa fa la sua amante segreta a lavoro. Come si comporta quando è in ufficio? Con chi parla? Chi chiama? Come si atteggia? Con che tonalità di voce parla il telefono? Noi sappiamo che in questo momento Stefano inizia a spiarla. Il problema è che le telecamere e le micro spie sono arrivate dopo, in quanto Ivana ha anche un telefono aziendale. Prima delle videocamere e delle micro spie, Stefano Savasta la tiene d'occhio attraverso quel telefono. In pratica Ivana è perennemente spiata. La donna dal canto suo all'inizio della relazione ha immaginato che l'uomo fosse geloso. Non gliel'ha detto esplicitamente, ma gliel'ha fatto capire con determinati atteggiamenti. Il problema, a mio parere, non è la gelosia in sé, ma quando si va oltre alla gelosia per poi arrivare all'ossessione. Stefano sembra proprio stia prendendo quella strada. Si sta ossessionando. Vuole avere Ivana solo per sé e l'idea che abbia interazioni con altri uomini lo fa andare fuori di testa. Gli anni passano, arriva a settembre del 2000 e Stefano Savasta stipula una sottospecie di testamento sentimentale che firma personalmente e che fa firmare Ivana, in cui di base si impegnano a non lasciarsi mai. È chiaro che ci sia un forte sentimento che li lega. Nonostante tutto Stefano non è un uomo che ha paura di dare amore. E in effetti a Ivana dà amore, a volte non sempre. La gelosia resta sempre un brutto mostro che Stefano purtroppo non riesce a superare. Ma alla fine la loro relazione è formata da alti e bassi. Ci sono delle occasioni in cui Stefano esagera, ma ci sono anche delle occasioni in cui stanno bene. Questa è una relazione difficile da identificare dall'esterno. Anche perché continua ad essere clandestina. I due si incontrano quando possono, come possono. Ed è così che la storia va avanti. A volte con più difficoltà, a volte con maggiore scioltezza. E il tempo passa. Passano altri cinque anni. Arriva il 2005 e la gelosia di Stefano ormai è alle stelle. Gli basta vedere Ivana che sorride a qualcun altro per impazzire di gelosia. Ogni telefonata crea sospetto. Ogni contatto reale o presunto di Ivana con un uomo è un pericolo agli occhi di Stefano. Una sera Ivana è in un locale a festeggiare un compleanno con delle sue amiche. La donna si sta divertendo, beve, chiacchiera con i suoi amici, sorseggia un drink. Fino a quando Stefano non irrompe nel locale, la strattona fuori di peso e la porta fino ad un parcheggio. Il punto è questo. Ivana, sapendo che Stefano si sarebbe arrabbiato, non gli ha raccontato della festa. Ed ora e me, quelle che riceve sono botte. L'unica cosa che gli chiede Stefano è Non me l'hai detto, quindi chi dovevi vedere? Glielo ripete all'infinito, poi le dà una gomitata sul naso, le prende la testa e gliela sbatte contro una macchina. La prende a schiaffi, a pugni. E mentre Ivana è lì a terra a piangere disperata, Stefano dice sempre la stessa cosa, le fa sempre la stessa domanda. Chi dovevi vedere? Tra le lacrime Ivana a questo punto le dice Nessuno, non dovevo vedere nessuno, te lo giuro, te lo giuro. Stefano la prende per i capelli e le risponde Puoi farla a tuo marito, sai? Ma non a me. Perché io ti prendo quella testolina del cazzo e te la sfascio. Hai capito? Se mi tradisci, finisci su una sedia a rotelle. Ivana neanche risponde, è lì che piange disperata. Stefano quindi la prende di peso, la carica in macchina e la riporta a casa come se nulla fosse. E Ivana quindi si ritrova a casa, sola, con un marito da accudire e un amante che le ha davvero fatto tanto, tanto male. È piena di lividi, le fa male tutto. Per cosa poi? Per una semplice serata tra amici. È proprio a questo punto che inizia l'inferno personale di Ivana. Quella relazione che all'inizio l'ha fatta sentire così speciale, ora non c'è più. La nuova vita che credeva di aver costruito con Stefano si è sgritolata nel tempo ed ora Ivana si sente di nuovo più sola che mai. La mattina dopo Ivana si guarda allo specchio e quasi si spaventa. È piena zeppa di lividi e questi lividi neanche il trucco riesce a nasconderli. Il tempo continua comunque a passare e Stefano a questo punto cambia decisamente atteggiamento con Ivana. La critica in ogni modo, la critica per come si veste, la critica per come si atteggia, la critica per come gesticola. Le sue amicizie secondo Stefano sono tutte quante sbagliate, dalla prima all'ultima. Le persone che frequenta Ivana non sono mai quelle giuste, perché solo Stefano può dire a Ivana cosa fare, come comportarsi e Ivana deve dargli retta, sempre, perché lui ha sempre ragione. Inoltre, come se non bastasse la sua ossessione, perché qua si parla di ossessione e non più di gelosia, continua ad aumentare. Stefano con Ivana diventa violento. La violenza lascia dei segni che a volte possono essere coperti con il trucco e a volte no. Ma a parte ciò, quello che Ivana non riesce a nascondere è il suo stato d'animo, è la sua tristezza. È sempre più abbattuta, giù di morale, stanca. Ecco perché molti colleghi in ufficio si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Ma i colleghi non sono gli unici a rendersi conto dello stato emotivo di Ivana. Anche un cliente ci fa caso, e lo abbiamo già nominato in questo video, Stefano Cerri. Stefano Cerri, come già vi ho detto, conosce poco Ivana. Insomma, la conosce di vista, ogni tanto fanno quattro chiacchiere. Ma all'uomo basta uno sguardo per capire che c'è qualcosa che non va. Dal canto suo Ivana dice al cliente di non preoccuparsi. È un periodo un po' pesante, lei è stanca e stressata, nulla di più. Ma anche questo scambio di battute tra Ivana e un cliente qualunque, fa scattare Stefano, che ora usa l'alcova, il loro angolo in ufficio, non per coccolare Ivana, ma per maltrattarla. Questa volta Stefano la lega a una sedia, poi inizia a girarle intorno. E le dice, Ivan è in lacrime, però trova la forza di parlare e risponde, io non so neanche di cosa tu stia parlando, ti rendi conto? Stefano risponde, Ah, quindi non sai a cosa mi sto riferendo? Allora non solo sono un cretino, ma anche un pazzo visionario. Mi sto inventando tutto? I tuoi amicamenti, i tuoi sorrisetti, i tuoi vestiti. Ti piace essere guardata? Ti piace che gli uomini pensino a te? A questo punto, di colpo, Stefano cambia atteggiamento e fa promettere a Ivana che quella storia sarebbe finita solo con la loro stessa fine. Questo episodio ovviamente lascia Ivana senza parole, è scioccata. Ed è a questo punto che si rende conto davvero che l'ossessione di Stefano non è più controllabile. Purtroppo, a volte, dalla passione all'ossessione, il passo è breve. A questo punto succede una cosa molto inquietante e io quando ho letto questa cosa ho detto, che cosa? Ma cosa sto leggendo? Ma vi spiego subito. Per un periodo Ivana sta molto male con l'intestino, ha spesso la nausea, vomita. Sapete di chi è la colpa? Di Stefano sa basta che inietta nell'estate che Ivana beve in ufficio, materiale biologico estratto da topi morti. Vi giuro ragazzi che quando ho letto questa cosa sono rimasta così tanto perplessa che sono andata a cercare tante altre fonti per capire se quella storia era reale. E lo è. È successo davvero. Arriviamo a febbreo del 2006, quando Ivana finalmente trova il coraggio di mollare Stefano Savasta. Gli dice che è finita, che lui confonde l'amore con il possesso, ma chiaramente a Stefano questo ultimatum non piace affatto. Stefano quindi inizia a dire a Ivana che però le andava bene quando lui le faceva i regali, come l'automobile. Dopodiché parte con una filippica sull'amore eterno, sul fatto che loro due si sono giurati amore eterno e quindi non possono mica lasciarsi. Ivana a questo punto davvero è arrivata al limite della sopportazione, se ne frega e gli dice Stefano, è finita. Ciao. Esce dal suo ufficio, ma viene di nuovo braccata da Stefano, che la prende per un braccio, la avvicina e le sussurra all'orecchio. Pensi di potertene uscire così, eh? Ma ti sbagli di grosso. Ricorda questo momento in cui ti senti tanto forte, perché passerà alla svelta. Qualsiasi cosa farai, qualsiasi cosa vedrai, io lo saprò. Ti vedrò. Ricordatelo sempre. Ivana non vuole fare scenate in mezzo all'ufficio. Quindi appena Stefano finisce di minacciarla, si scosta e se ne va. Esce dall'ufficio e se ne torna a casa. Il punto qui è uno. Ivana decide di rompere ogni rapporto sentimentale con Stefano Savasta, ma rimane a lavorare nella sua azienda. E questo è un grosso problema per lei. Inoltre Ivana è preoccupata perché inizia a pensare alla frase che le ha detto Stefano. Qualsiasi cosa farai, qualsiasi cosa vedrai, io lo saprò, lo vedrò. È così che Ivana pensa che l'uomo la controlli praticamente dall'inizio della loro relazione. Ed è così. A Ivana, tra l'altro, viene anche in mente un'altra cosa. Stefano, all'inizio della loro relazione, forse quella macchina l'ha regalata a Ivana per uno scopo secondario. Insomma, non gliela ha comprata per dimostrarle che faceva sul serio, ma anche qui per poterla tenere d'occhio, per poterla controllare. Infatti, regalando l'auto a Ivana, Stefano ha installato all'interno di quell'auto delle micro spie, con le quali riesce a seguire Ivana, controlla tutti i suoi movimenti, ma non solo. Ascolta anche tutte le sue conversazioni e lo fa da anni interi. Quando Ivana realizza questa cosa, si mette a piangere disperata. È in macchina per la pausa pranzo nel parcheggio dell'azienda in cui lavora. E rioppare Stefano Cerri, uno dei fornitori dell'azienda, che la nota. Corre verso la sua macchina, le fa domande, Ivana però prova a tirarsi indietro. Stefano però le dice, no dai Ivana, ma che facciai? Cos'è successo? Dai, dai, scendi dalla macchina, vieni con me. Così Ivana, scende dalla macchina. E i due si allontanano insieme, chiacchierando. Va una pranzo insieme e Ivana si sfoga. Parla con Stefano Cerri. Ivana spiega a Stefano Cerri che ha paura del suo capo, Stefano Savasta, in quanto hanno avuto una relazione durata 14 anni fatta di storie, di botte, di paura. Ivana si dà la colpa. Dice a Stefano Cerri che è stata lei a dargli la possibilità di arrivare a quel livello di ossessione. L'ha lasciato fare, dice Ivana. Ed ora si ritrova in quella situazione. Stefano Cerri dal canto suo l'ascolta e fa capire che la colpa non è sua, perché la colpa non è mai della vittima. La protegge, la coccola. Ivana si appoggia a Stefano Cerri, trova in lui un confidente, un ottimo amico. Un ottimo amico che in poco tempo diventa qualcosa di più. Ora Ivana riesce nuovamente a sperare perché accanto a lei, ora, finalmente c'è davvero una persona premurosa che vuole proteggerla. Inoltre, entrambi non hanno grandi pretese perché sono tutti e due sposati. Cerri ha una moglie ma soprattutto ha una figlia e non ha assolutamente intenzione di lasciare la sua famiglia. Ma per Ivana questo non è un problema, il suo problema resta sempre Stefano Savasta. Perché l'uomo a questo punto inizia davvero ad avere un atteggiamento persecutorio e non lo nasconde neanche. Lo 2006 è Stefano Cerri a prendere l'iniziativa. Bisogna agire, basta essere passivi. È così che assume un investigatore privato, Paolo Pasini. Lo fa per tranquillizzare Ivana e per fermare Stefano Savasta prima che sia troppo tardi. Spiare dunque chi spia per prevenire le sue mosse e scongiurare una violenza. Paolo Pasini, l'investigatore privato quindi ha un compito, deve seguire ovunque Ivana. Solo così avrebbe scoperto se anche Stefano Savasta sta facendo la stessa cosa. Oppure se in realtà la donna è al sicuro ma è molto molto spaventata dal suo ex. Ed è a questo punto che Stefano Savasta fa la sua prima mossa. E fa mandare a casa di Stefano Cerri una serie di fotografie che lo ritraggono con Ivana. Attenzione ho detto fa mandare, questo è un passaggio importantissimo. Stefano Savasta non si sporca mai le mani. Manda sempre avanti qualcun altro a sbrigare queste faccende al posto suo. Poi però non si trattiene e qualche sera dopo aver inviato le fotografie chiama a casa di Stefano Cerri. Stefano Savasta ovviamente è incazzato come una iena e dice a Stefano Cerri che non sopporta che qualcuno gli porti via qualcosa di suo, ossia Ivana. Dopodiché lo minaccia. Savasta dice a Cerri che sa che lui ha una moglie e una bella figlioletta e quindi gli dice di fare attenzione a chi peste i piedi. Stefano Cerri a questo punto è spaventato e incontra l'investigatore privato per avere delle novità. Paolo Pasini è serio quando parla con Stefano Cerri. Gli dice che l'ha pedinato e gli ha fatto delle foto. A suo parere è un tipo molto astuto. In un certo senso è anche ammirevole la sua capacità di dissimulare. È un ottimo attore Stefano Savasta e con le persone esterne al lavoro non fa trasparire assolutamente nessuna emozione. Ma soprattutto è imprevedibile perché riesce a celare le sue intenzioni. L'investigatore dice a Stefano Cerri che è palese. Quell'uomo è crudele, violento, manipolatore. E Stefano Cerri a questo punto è ancora più preoccupato perché Stefano Savasta ha minacciato sua figlia. Che è ovviamente la cosa più importante della sua vita. Però Stefano Cerri chiede all'investigatore di non dire nulla a Ivana di ciò che è successo. E smette di far spiare Stefano Savasta perché ora in gioco c'è l'incolumità della sua famiglia. Ma Ivana è terrorizzata. Teme che possa succederle qualcosa. Quindi si fa coraggio, prende carta e penna e scrive una sorta di testamento. Che ora vi leggo. Con la presente dichiaro che da questo momento in poi e per il resto della mia vita qualsiasi cosa mi dovesse accadere, morte violenta o inspiegabile, anche incidenti stradali, aggressioni di ogni genere, la prima persona da indagare è il signor Stefano Savasta. Questo vale anche per la mia famiglia e per le persone che frequento, che sono a conoscenza delle vicissitudini della relazione burrascosa che ho avuto con Stefano Savasta. Ebbene sì, Ivana ha paura. Ha paura di morire. E nel frattempo l'ossessione di Stefano non si placa. Nell'estate del 2006 Ivana parte con gli amici per un viaggio in Turchia. E Stefano Savasta riesce a mandare qualcuno in Turchia per controllarla. Gli paga il viaggio, l'aereo, l'hotel, gli dà 500 euro prima di partire e gli promette 500 euro quando sarebbe tornato. L'uomo al ritorno dalla Turchia porta in effetti a Stefano Savasta delle foto che ritraggono Ivana felice con i suoi amici in spiaggia a chiacchierare. Stefano rimane molto deluso da queste foto. Sperava di trovare qualcosa di piccante. Ma la verità è che Ivana si è solo divertita con gli amici. Stefano Savasta però ha un fine, vuole raggiungere un obiettivo, ossia distruggere piano piano la vita di Ivana. Vuole che si chiude in casa, che non abbia più vita sociale, amici, nessuna. Così Stefano dice all'uomo che è partito per la Turchia per spiare Ivana di trovare un amico, perché ha proprio un lavoretto da proporgli. È la sera del 24 novembre del 2007. Ivana sta uscendo dall'ufficio di Stefano Cerri e nel parcheggio della sua azienda viene aggredita da due uomini dal volto coperto. Questa aggressione Ivana non convince, in quanto prima uno dei due uomini l'ha colpita. Le ha fatto male. Poi le hanno rubato la borsetta. E questa è un'anomalia di fatto, perché per rubare la borsa ad una donna non serve pestarla. Qui c'è proprio qualcosa che non torna. Ivana viene ricoverata all'ospedale San Paolo e ha una frattura nasale scomposta. La donna ben presto si rende conto che quell'azione è stata ordita da Stefano Savasta. Col fine di sfregiarla, ma non solo. Anche col fine di rubarle il passaporto. Ma perché? Perché proprio in quel periodo Ivana sta organizzando un viaggio per l'estate. Ma Stefano Savasta non vuole che vada in vacanza. Vuole rovinarla, chiuderla in casa, terrorizzarla. Vuole annullare Ivana. La situazione ormai è fuori controllo, ma fortunatamente Ivana non è da sola. Con lei c'è Stefano Cerri. L'uomo prova a convincere Ivana a denunciare. Ivana però dice che non ci riesce, che ha paura. È convinta che se denunciasse Savasta, quest'ultimo arriverebbe a fare di peggio. Quindi Stefano Cerri le offre di nuovo la sua spalla. Le dice, se non riesce a farlo da sola, io sarò con te. Verrò con te, ok? Ivana in lacrime di nuovo accetta l'aiuto di Stefano Cerri. Stefano Savasta dal canto suo esplode ulteriormente quando scopre che Ivana ha una relazione con Stefano Cerri. Che è una persona che compie dei lavori per Savasta. E Savasta questa situazione la prende come un'offesa al suo onore. Ovviamente in un'introiezione totalmente degenerata e maschilista. Però in effetti Savasta la prende davvero come un'offesa e si chiede perché Ivana abbia scelto proprio lui. A questo punto Ivana trova il coraggio e denuncia. Perché suo ex ha superato ogni tipo di limite. La polizia forte di questa denuncia perquisisce la stamperia di Stefano Savasta. La sua azienda. Gli agenti quindi trovano una stanzetta di vita a camera da letto all'interno dell'azienda. A questo punto la polizia perquisisce anche la casa di Stefano Savasta. La casa in cui l'uomo ha sempre vissuto con sua moglie e i suoi figli. In quella casa vive la sua famiglia. La famiglia che Stefano Savasta non ha mai lasciato. Quando gli agenti entrano nella camera da letto di Stefano Savasta. Si ritrovano alla stessa identica camera riprodotta nella stamperia. Stesso tipo di letto, stessi quadri. Tutto è identico. A questo punto Savasta fa un'altra mossa. Manda due uomini da Stefano Cerri e uno è Bruno Lamarca e il suo braccio destro. Così i due uomini aggrediscono Cerri a lavoro. Lo atterrano e gli dicono velocemente che Stefano Savasta li ha mandati per un avvertimento. Non deve vedere Ivana Siviero mai più. Non le deve telefonare. Deve uscire dalla sua vita se vuole continuare a vedere sua moglie e sua figlia. Stefano Cerri è una persona essenzialmente dolce e mite ma ferma. E non vuole abbassarsi a queste violenze. Vuole proteggere Ivana in maniera rigorosa. Non si arrende ma probabilmente sottovaluta la degenerazione che questa violenza può prendere. Stefano Cerri quindi si sporge denuncia ma contro i gnoti. Parlando con Ivana ed iscrivendo i due uomini la donna riesce a riconoscere uno dei due aggressori. Perché uno di quei due aggressori sicuramente ha aggredito anche lei a novembre del 2007. A questo punto il braccio destro di Stefano Savasta, Bruno Lamarca, gli dice chiaramente che è preoccupato perché Cerri avrebbe potuto riconoscerlo anche solo dalla voce. Bruno Lamarca lavora in ditta e Stefano Cerri è passato spesso in quella ditta. Così ecco che il braccio destro di Stefano Savasta dice al suo capo che sa lui come procedere perché conosce di vista due domenicani. Fa ne butta fuori in una discoteca e quella è gente che non ha paura di sporcarsi le mani. Savasta apprezza l'informazione che potrebbe tornargli utile. Intanto Ivana prende un'altra decisione molto importante. Si licenzia. Vuole definitivamente uscire dalla vita di Savasta e per lei quello è l'unico modo. Smettere di vederlo. Tagliare definitivamente i ponti. Basta essere passivi. Basta sopportare. E accanto a lei c'è sempre Stefano Cerri che le sta accanto in ogni sua decisione. È così che Stefano Savasta perde Ivana. E ahimè perde anche se stesso. Ormai è fuori controllo e è pronto a tutto pur di riaverla. Ecco perché ora ha un altro obiettivo. Farla pagare è quello che considera l'unico ostacolo tra lui e il suo amore. È così che Stefano Savasta si mette in contatto con questi domenicani. Li paga e gli chiede di fare molto, molto male a Stefano Cerri. È la sera del 10 dicembre del 2008 e Ivana deve incontrarsi con Stefano Cerri dopo il lavoro. Ma annulla l'appuntamento perché ha altro da fare. E così gli uomini mandati da Savasta prendono Cerri fuori da lavoro e lo caricano di peso su un furgoncino bianco. Arriva l'11 dicembre. Ivana prova a contattare Stefano Cerri in ogni modo. Ma non ci riesce. Così Ivana decide di chiamarlo a lavoro. E scopre che Stefano Cerri è scompasso dalla sera prima. Non è neanche rientrato a casa. La macchina però è rimasta nei pressi del suo negozio. E Ivana a questo punto lo sa, è sicura. Nella sparizione di Stefano Cerri c'entra in qualche modo Stefano Savasta. Ivana quindi va effettivamente a denunciare la scomparsa di Stefano Cerri e fa davvero il nome di Stefano Savasta. Il pubblico ministero riceve la denuncia di Ivana e svolge un'indagine che è investigativa e di garanzia. La prima cosa da fare in questi casi è escludere l'allontanamento volontario. Attuando una ricerca certosina su treni, aerei e taxi. È necessario controllare le carte di credito. E infine cercare un movente plausibile che possa spiegare l'allontanamento volontario, che in questo caso non c'è. La polizia intanto continua a cercare Stefano Cerri che non si trova. Gli inquirenti battono tutte le piste possibili, poi hanno un'idea. Decidono di mettere a confronto Ivana con Stefano Savasta e suo braccio destro, Bruno Lamarca. È il 19 dicembre del 2008 e le telecamere della questura di Milano registrano tutto. Stefano si comporta in modo ineccepibile. È un approccio di sicurezza, quasi di sfida. È così che Ivana si trova faccia a faccia con il suo carnefice. Stefano Savasta. Ivana guarda Stefano e dice, lo sai che hai perso? Stefano la guarda e le risponde, io avrei perso? Ivana risponde, sì, hai perso perché l'orgoglio è l'unica cosa primaria della tua esistenza di merda. Vendicarti. Poi, sei uno che sa aspettare, no? Hai aspettato il momento giusto, hai aspettato bene un anno prima di spaccarmi la faccia. Stefano ribatte, sì, se io avesse dentro quell'olio che tu tanto decanti. Ivana sorrite e risponde, sì, sì, quante volte l'hai detto, giusto? Scusami, non volevo picchiarti, ti amo. Poi di nuovo botte e di nuovo, scusami, non volevo picchiarti, ti amo. Vogliamo ricordarci di tutte le volte che mi hai messo le mani al collo? Oppure vogliamo ricordarci di tutte le volte che mi hai spinto contro un muro? Stefano risponde, calmo, e tu quindi saresti stata per 15 anni con un torturatore? Ivana lo guarda e risponde, eh, probabilmente sì, ma io non capisco. Spiegami, perché? Cos'è? Orgoglio ferito? Perché ti ho lasciato e non ti avrei mai dovuto lasciare? Cos'è? Stefano si fa serio e dice, questo me l'hai promesso, mi hai promesso che non mi avresti mai lasciato. Ivana risponde, eh certo, se solo tu non avessi fatto tutto quello che hai fatto, tu sei pazzo, col tuo atteggiamento da mafioso mancato. Fino a quando te la prendi con me, posso capire, ma quando te la prendi con le persone che stanno a cuore a Stefano Cerri? Stefano Savasta la blocca e risponde, adesso tu mi spieghi perché cazzo dovrei prenderla con una testa di cazzo che non so neanche chi cazzo sia. Ivana a questo punto alza la voce, lo guarda in faccia e gli dice, perché con Stefano Cerri ci stavo uscendo io, ecco perché tu sei un ossessionato. A questo punto questo confronto si conclude e Ivana incontra il braccio destro di Savasta, Bruno Lamarca. La prima cosa che chiede Bruno è, ma che cazzo è successo? Ivana risponde, cosa è successo? Beh, lui sapeva benissimo che stavo con Cerri e ora Cerri non c'è, è sparito. Bruno quindi chiede in tutta tranquillità, e dov'è? Ivana risponde, dove è Cerri da dieci giorni? Io non lo so. Tu sai quanto è psicolabile Savasta, no? Anche se ha quella faccia da perbenino, sono convinta che dietro la sparizione di Cerri ci sia lui. Probabilmente è stato il mandante. Dieci giorni che manca, ma dove può essere? Bruno risponde, beh, è semplice Ivana, è sottoterra. Ivana si preoccupa e dice a Bruno, perché è sottoterra? Perché mi dici questo? Bruno ribatte, perché non si tiene per dieci giorni una persona sotto sequestro, è una palla che scotta. Ivana ribatte, ma ti rendi conto? Questo è omicidio, è omicidio. Bruno conclude, sequestro di persona è omicidio. Successivamente uno dei sicari di Stefano Savasta confessa. Si chiama Wilton Martinez Vallès. È vero, Stefano Cerri è stato prima sequestrato e poi ucciso per ordine di Stefano Savasta. Un omicidio che Stefano Savasta ha pagato 2000 euro. È così che si apre il processo contro Stefano Savasta e Ivana è la testimone chiave. Il punto è che Stefano Savasta nega tutto. Lui non è così tanto geloso, non ha mai seguito Ivana, non l'ha mai tenuta sotto controllo, non l'ha mai pedinata. Lui non ha fatto nulla. E nel frattempo il corpo di Stefano Cerri ancora non si trova. I giudici lo condannano comunque all'ergastolo, ma in carcere Stefano Savasta ci sta poco tempo. Per motivi di salute riesce ad ottenere i domiciliari. In realtà però è tutta una macchinazione. Savasta è rinchiuso nel carcere di Monza. E lì, durante un colloquio con sua moglie e suo figlio, viene intercettato. Ecco come fa Savasta ad ottenere i domiciliari. Savasta inizialmente parla con Francesco, suo figlio, e gli dice Quello in un carcere di merda come questo doveva cacciarmi. Francesco, ho bisogno di venirne per forza fuori, almeno per salvare il salvabile. Francesco risponde Lo so papà, lo so. Stefano ribatte Adesso mi mandano a fare un test sotto sforzo perché mi ha visitato questo cardiologo e Io gli ho detto dei sintomi, ce li ho alla sera. E lui mi ha detto Chi se ne frega, prenditi un po' di trinitrina se ti vengono ancora. Però da qui non devi uscire morto. Ecco perché mi mandano a fare un test sotto sforzo. Ci sono delle pastiglie, ne sono sicuro, che ti alterano la cosa. Portameli la settimana prossima. Me le infili addosso, mi baci e me le abbassi dentro alla tasca. E quando vado a fare il test sotto sforzo, portami questa pastiglia così mi cacciano da qualche parte. Quanti sono i battiti normali che devono essere? I battiti del cuore normali. Quanti sono? Sono 75 papà. Stefano ribatte 75? Con il caffè riesco a portarli a 100. Ma non riesco più di un tot. Francesco ribatte Ma papà, guarda che 100 è tantissimo. Stefano risponde Li ho misurati e sono riuscito a portarli a 100. Ma ho bevuto mezzo litro di caffè. E per di più dura solo 2 o 3 ore. Poi va giù. Però Francesco devi capire che io nel frattempo mi predispongo. Altra intercettazione tra Stefano e sua moglie. Maria Stefano dice Maria, portami quelle cazzo di pastiglie. Maria risponde Ma sei cretino? Vuoi? Ma poi a chi le chiedo? Dove le trovo? Stefano ribatte Ma che vuol dire dove le chiedo? Cazzo dove le trovi? In farmacia dove le vuoi trovare? Dove cazzo le trovi? Te le fai procurare? Ce ne avrà un cazzo di cardiologo di merda o qualcuno del genere, no? Perché mi stai facendo fare casino, cazzo? Procurami le pastiglie, Maria Procuramele! Sebastia in effetti riesce a tornare a casa. È il 19 novembre del 2014 Ci troviamo in stazione a Verona E Savasta Si accascia E muore di infarto Rimane vittima di quegli stessi farmaci Che aveva assunto per fingersi malati e ottenere i domiciliari Ora gli altri complici sotto accusa Non temono più una vendetta da Stefano Savasta E così rivelano dove si trova il corpo di Stefano Cerri Le ricerche durano un paio di giorni E il corpo di Stefano Cerri viene trovato in un bosco nei pressi di Garlasco In provincia di Pavia Anche il mandante dell'omicidio Stefano Savasta È morto E Ivana purtroppo in questo caso non può parlare di giustizia Perché a lei rimane solo un dolore immenso È la mattina del 10 maggio del 2015 Quando Ivana si lascia portare via dalle onde del mare A Loano In Liguria Il corpo senza vita di Ivana viene recuperato qualche ora dopo dalla guardia costiera È strano però Perché Ivana sapeva nuotare perfettamente Eppure per il medico legale Ivana si è suicidata Allora partiamo da un punto In questa storia non c'è una sola persona fedele Una Ed io sui traditori in generale non ho una buona opinione Però trovo che in questa storia ci sia anche tanta speranza e amore Ivana cercava solo uno spiraglio di felicità In una quotidianità difficile e complicata Stefano Cherry per quanto abbia tradito sua moglie è stato per Ivana un punto fermo L'uomo le è stato accanto senza pretendere mai nulla in cambio Anzi forse Stefano Cherry voleva semplicemente vedere Ivana felice Vederla sorridere Lui ha vissuto tutte le sue paure, le sue paranoie, le sue preoccupazioni Stefano Cherry sapeva qual era lo stato d'animo di Ivana Sapeva che era debole, sapeva che era spaventata Anche quando riceve delle minacce da Savasta Cherry non si tira indietro Non riesce a lasciarla Ivana, ci tiene troppo a lei, vuole aiutarla Poi c'è Stefano Savasta Beh, che dire di questo uomo? Un uomo che ha sempre avuto a casa una famiglia Ma che è riuscito a portare avanti parallelamente Per 14 anni una storia clandestina in cui maltratta l'amante Stefano Savasta è un uomo che Sembra non conoscere il significato di rispetto È inquietante pensare a quanto una persona Possa fingersi qualcun altro Con gesti galanti, amorevoli, pranzi speciali Per poi dimostrarsi esattamente l'opposto Questa è una vicenda triste, è una vicenda di amore Di morte in cui purtroppo nessuno è sopravvissuto Detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video Spero che questo video possa essere stato di vostro interesse E vi sia piaciuto Voi conoscevate questa storia? Che cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto Nei commenti Detto questo ragazzi io vi mando Un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando fate i bravi E continuate a mangiare le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazze Ciao ragazzi